eccoci qua ragazzi eccoci qua eccoci qua per parlare di un argomento secondo me molto importante con un po di ritardo perché è un argomento di due giorni fa adesso che parte dal tweet di c'è relativo a mare il muso fatevi prima salutare ho l'ermanito sono già 7 e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo in un certo senso di calcio mercato di voci di mercato però parliamo un poco di tutto nel senso più generale perché voglio voglio fare un poco di chiarezza allora andiamo a leggere questo tweet del napoli che secondo me è un tweet dal livello comunicativo imbarazzante veramente imbarazzante sapete quale tweet è ovviamente lo leggiamo lo stesso tutto sport continua a parlare di ermoso al napoli la linea della difesa è stata completata con gli arrivi di marine e buongiorno il pur bravo ermoso non fa parte degli obiettivi del napoli mamma mia allora partiamo dal presupposto che è scritto male marine non c'è il punto finale e il pur bravo ermoso ma ragazzi ma di che cosa stiamo parlando c'è immagina ermoso questa casa legge su tweet su tweet ragazzi ma questa è roba da bancarella del torrone io l'ho detto nei miei video su tiktok e sono stato insultato perché ho criticato la società non cadiamo sempre negli stessi errori non cadiamo sempre negli stessi errori la società è criticabile il napoli si può criticare il napoli si deve criticare se fa qualcosa di sbagliato forse questo non è chiaro è ma sì ma tu che ne sai dall'alto della tua della tua esperienza in comunicazione a parte che facci question da vita studio anche questo ma non è questo il discorso se è una cosa che crea questo tipo di dissenso vuol dire che a livello comunicativo è stato sbagliato è stato sbagliato a meno che non si tratti di una tattica di calciomercato per provare a smuovere ermoso per fargli abbassare le pretese si tratta di un errore comunicativo è un errore comunicativo perché pure come è scritto un errore comunicativo a prescindere la società non dovrebbe entrare in questa situazione di calciomercato anche perché una volta che smentisci una notizia che poi parliamo di una notizia vera perché il napoli ha cercato ermoso è certificato che il napoli abbia cercato ermoso e l'hanno detto tutti i media più importanti ha detto pedullala ha detto marzio ha detto razzo a comando hanno detto tutti quanti non c'è bisogno di inventarsi che non sia così anche perché una mancanza di rispetto poi in questo caso te la prendi solo con tutto sport cioè sarebbe più onesto da parte del napoli se dicesse abbiamo mollato la pista ermoso non che che non l'abbiamo cercato ma soprattutto se tu smentisci questo se tu devi smentire tutte le altre cose devi smentire tutte tutte le notizie non false perché altrimenti incominciando a smentire tutte le altre notizie che non smentisce che magari sono false è come semplicitamente stessi dicendo che sono vere perché non le hai smentite perché smentire altrimenti una e non smentire l'altra è un errore comunicativo ragazzi è un errore comunicativo gigantesco e nessuno ragazzi si fascia la testa perché non arriva ermoso perché senza ermoso non si può giocare a calcio assolutamente no si può tranquillamente giocare a calcio senza mario ermoso ma si stanno facendo gli stessi errori dello scorso anno perché io sento alcuni dire no vabbè ma il titolare sulla sinistra è matia solivera per quanto è una situazione che gasi anche me gente che lo dice come se fosse una certezza assoluta matia solivera non ha mai fatto il braccio a sinistra ragazzi non l'ha mai fatto ha fatto il centrale in una difesa 4 con l'uruguay non ha mai fatto il braccio a sinistra magari l'avrà fatto nelle parti iniziali della sua carriera chi lo so ma non è una certezza non è una certezza lo pensa conte in questo momento ovviamente noi ci fidiamo ciecamente di conte come natan ragazzi anche natan non è una certezza adesso vogliamo bocciare tutti quanti natan no l'anno scorso si è pensato che con la stessa rosa meno kim con un allenatore qualsiasi esonerato in arabia ha preso lui poi ha preso mazzardi poi preso calzona un allenatore esonerato in arabia saudita uno che non allenava più è un altro che non aveva mai allenato si pensava che solo con la rosa si potesse andare avanti e ripetere gli 80 85 90 punti come se niente fosse come se fosse così una macchina che tu gli cambi il pilota e cambi il pilota e non cambia assolutamente niente a parte che tu hai cambiato una parte importantissima e fondamentale del motore hai anche messo tre piloti che non sanno non sapevano cosa stessero facendo salvando la pace del povero calzona che veramente per quanto abbia fatto peggio di tutti secondo me è stato veramente anche sfortunato la situazione è irrisolvibile ormai e tutto il resto ha preso quest'anno si sta pensando che col solo arrivo di conte si può ma non non dico che la società pensi questo perché la società non pensa questo anche perché c'è lo stesso antonio conte in società che col solo arrivo di conte si possa risolvere tutto perché per quanto conte sia uno che fa miracoli perché conte uno che fa oggettivamente miracoli per quanto conte sia uno che lavora tantissimo che migliora i giocatori non ci si può aspettare realmente la luna perché non è che adesso tutti i giocatori diventano ufficiali cioè da nulla diventano fortissimi perché c'è conte le cose bisogna dirle poi adesso c'è da attendere siamo ancora a luglio molte cose si faranno ad agosto tra 15 giorni inizia inizia la stagione del napoli perché si gioca col modena questo ricordiamocelo sempre però ripeto non bisogna esagerare su certe cose né in positivo né negativo abbiamo tutti quanti saltato il lavoro del napoli che su certe cose si è anticipato il napoli si è anticipato prendendo rafa marin si è anticipato prendendo buongiorno anche a poco prezzo il napoli si è anticipato prendendo prendendo spinazzola su questo siamo stati bravi il napoli il napoli ha preso subito conte il napoli ha preso manna prima che iniziasse il calcio mercato a differenza dello scorso anno che avevamo giusto giusto preso il ds da dieci giorni in questo momento lo scorso anno da dieci giorni prendiamoci conto di questa cosa però non è che quando si fanno le cose per bene poi non si può sbagliare c'è bisogna bisogna mantenere un equilibrio bisogna mantenere un equilibrio fatto che sia stato preso conte non significa che non si possa dire nulla ok le cose vanno sempre analizzate altrimenti se diciamo che tutto bello e tutto perfetto è inutile anche che io sto qui a parlare a fare e che e che facciamo i tifosi a sto punto facciamo sempre tutto a posto bello bello sembro pachi non so vabbè capite capite quello che quello che dico e niente ragazzi la situazione al momento è questa sicuramente stato ottimo anche confermare confermare di lorenzo conte ha fatto un ottimo lavoro ripeto io mi fido ciecamente di conte però conte va anche accontentato sul calcio mercato e già in questo momento il napoli ha lavorato bene ma non è finita perché al centrocampo c'è qualcosa da da puntellare e in attacco bisogna vedere cosa succede l'attacco diciamo il reparto in cui il napoli è messo meglio e può permettersi di aspettare anche verso la fine tranne per lukaku spero che si faccia il prima possibile dicevo lukaku e sull'esterno ragazzi sull'esterno bisogna operare sull'esterno di centrocampo bisogna indubbiamente operare queste ragazzi bisogna bisogna mantenere un minimo di equilibrio detto ciò mi raccomando fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione troverete facebook instagram twitter tutto quello che volete sarà lì giù troverete anche i g7 shorts il mio canale pubblico teleclippo anticonici momenti divertenti del canale di top preferiti noi ci vediamo la prossima volta sempre e comunque tutta la vita forza napoli ciao ciao ciao